Una quercia immensa che aspetta soltanto di rinverdire a primavera e sotto c'è un centro ricreativo per pensionati, sono a Manopello Scalo. Parco Aravona, davvero un bel posto. Tappa intermedia del progetto, scegliamo di nutrire la salute, finanziato dalla regione per la fondazione Foggi che si occupa di prevenzione oncologica. Il tutto cominciando dal nutrire, non la malattia come di consueto facciamo, ma la salute. Questa trappa è stata dedicata alla saggezza dei proverbi popolari che già la sapevano lunga in proposito. Questo per dire per esempio che se piove a luglio ed agosto, piove miele, olio e mosto. Ecco questo proverbio, questo motto ci parla di tre eccellenze della produzione agroalimentare d'Abruzzo. Proverbi e modo di dire per imparare quello che la conoscenza, la cultura popolare ci ha trasmesso della conoscenza delle piante nel loro uso sia alimentare che medicinale. I pensionati in questo centro facevano anche cucina, poi è arrivato il Covid. Questo è il primo evento che svolgiamo all'interno del centro pensionati dopo due anni praticamente di chiusura. Coinvolgere loro all'interno di questo progetto e all'interno della fondazione è stato secondo me fondamentale, perché tra le categorie ovviamente più colpite da quella che è stata la pandemia. Ma gli anziani sono anziani perché sono tosti e puntano a riprendere le loro abitudini. Mangiare il giusto e non di più genuino e in buona compagnia. Sono regole semplici che sappiamo, ma abbiamo forse dimenticato. Prima di tutto siamo bene perché quello che abbiamo mangiato a noi ci ha fatto bene. Magari vengono anche i giovani. Anche qualche giovane, sì, però noi per giovani diciamo 50-60 anni, perché siamo in una categoria un pochettino che va dai 45-50 fino ai 90 anni e anche qualcuno in più. Una pianta di stagione, la farfara, Tussilago farfara, una pianta che è in fioritura in questo momento e che nella medicina popolare, ma anche nella moderna fitoterapia, viene utilizzata per la tosse. La pianta ha la caratteristica di vivere nei suoli molto poveri, per cui il detto in questo caso è se la vigna ha la farfarella è un'ottima dose per tua sorella, quindi è un terreno che può essere facilmente liberato.